Ci racconta, visto che lei ne ha vissute tante di queste settimane natalizie in giro per l'Europa, se c'è una ricetta particolare, se cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questi giorni, considerando le tre partite tra Natale e Capodanno? Beh, cerchiamo di combinare, credo che Natale è un momento importante per tutti, per tutti noi, e cerchiamo di combinare l'aspetto lavorativo con l'aspetto festivo, nel senso che dovremo allenare a Natale, questo è normale, ma naturalmente abbiamo la possibilità di passare una parte, il pranzo natalizio, ognuno nelle proprie case. Non credo che cambia molto, credo che è una bella novità per il calcio italiano, perlomeno in Inghilterra la gente approfittava del Boxing Day, del giorno dopo Natale, per andare tutti allo stadio in maniera rilassata e speriamo che sia così anche qui da noi. A proposito del Boxing Day, che sarà Inter-Napoli e di combinazioni, il fatto che ci siano due giocatori molto importanti per il suo progetto, cioè Coulibaly e Insigne in diffida, può in qualche modo condizionare le scelte per la partita di domani o non ci pensa proprio? No, assolutamente no, anche perché non far giocare un giocatore in diffida significa far risaltare due partite nel momento in cui prende l'ammunizione, perciò al di là di quello, ma sono tre partite molto importanti, vogliamo fare tutti i punti possibili per cui dobbiamo cominciare domani contro una squadra che gioca un buon calcio, propositivo, perciò non facciamo calcoli in riferimento alla partita con l'Inter, assolutamente no, giocherà la squadra che ritengo migliore senza fare, e poi dopo la partita penseremo alla partita con l'Inter, ma abbiamo sempre fatto così e faremo così anche domani. Tra l'altro abbiamo quasi tutta la rosa a disposizione, tranne Allan che ha avuto un problema alla schiena che non è riuscito a recuperare, ma tutti gli altri sono disponibili, anche Mario Rui che è rientrato stamattina da problemi suoi che ha avuto in settimana. Grazie, allora ne approfitto Allan, riuscirete a recuperarlo per la gara contro l'Inter? Sì, ha avuto il classico colpo della strega, insomma, niente di particolarmente, sta molto meglio ma non è in grado di giocare domani. Grazie. Corriere dello Sport. E come si gestiscono tre partite in sei giorni? Come? Come abbiamo sempre fatto. Non ho chiesto la formazione. Non c'è tanta possibilità di allenarsi, siamo focalizzati in questo, quando c'è questa vicinanza di partite, soprattutto sul recupero dei calciatori. abbiamo sempre fatto così, oltretutto la squadra da segnali di buona condizione perché recupera velocemente dagli sforzi, non ci sono scorie dopo le partite, dopo due giorni sono già fresche e pimpanti, perciò credo che arriveremo fino alla fine in una condizione buona. Invece un'altra curiosità, dopo quattro mesi di Italia, che sensazione avverte? Cioè, rispetto al momento in cui l'hai lasciato, il calcio italiano è migliorato o è peggiorato? Sotto tutti gli aspetti, cioè tecnico, tattici, ambientali, nel mondo arbitrale, se vuoi anche mediatici, sei autorizzato a parlare male di tu. Beh, cosa ho ritrovato? Io, diciamo, l'esperienza che avevo da fuori è un'esperienza un po' diversa, nel senso che vedo più partecipazione della gente agli stadi, gli stadi si stanno piano piano riempiendo, sta ritornando la passione, non vedo sostanzialmente grosse polemiche, credo che la VAR in questo senso ha aiutato, anche se obiettivamente necessita dei miglioramenti. Vedo un calcio italiano in salute. Naturalmente, se fossimo riusciti noi all'Inter, diciamo, ad arrivare negli ottavi di Champions, avrebbero tutti parlato di un calcio italiano in grande ripresa, siamo in ripresa, anche se noi e l'Inter siamo andati fuori dalla Champions, ma io penso che possiamo competere in maniera decisa nell'Europa League, quindi avendo la Juventus e la Roma nella Champions, l'Inter, la Lazio e il Napoli nell'Europa League, penso che siamo, sono sicuro che ci faremo valere. A livello ambientale le cose, secondo me, stanno migliorando, grazie anche, credo, per quello che riguarda, diciamo, la situazione ambientale, gli insulti e così, credo che la federazione, nella figura del Presidente, ha fatto dei discorsi molto seri e molto ben precisi, quindi le cose stanno veramente migliorando. Repubblica. Sì, eccomi. Ciao, buongiorno. No, io invece volevo chiederti di Verdi, se sta bene, è pronto per giocare anche domani. Sì, sì, sta bene, si è allenato regolarmente, non avverte più nessun problema, è sicuramente un... può essere sicuramente utilizzato. Il mattino. Ciao, buongiorno. Anche in base a quello che dicevi prima, c'è che Allan non ci sarà domani, potrebbe essere la partita di Rog? Potrebbe di Rog, di Fabiano, di Zielinski in quella posizione. Radio Kis Kis. Sì, buon pomeriggio mister, in diretta sulla radio ufficiale. Con il Liverpool a Genova, a Bergamo, a Cagliari, sempre gol nel finale. È un caso? È un segno di maturità? È una squadra la tua che sfianca gli avversari? E poi c'è una mia curiosità. Beh, l'aspetto fisico credo che è molto importante, credo che ha condizionato molte partite, soprattutto contro l'Atalanta, contro il Cagliari, credo che la parte finale a livello fisico l'abbiamo fatta molto bene, quello sicuramente ha inciso. E poi dopo c'è anche un pizzico di buona sorte, naturalmente. però, come ho detto, la fortuna e la sfortuna arrivano se te lo meriti, se non te lo meriti, se non ci credi fino alla fine, se non lotti, se non combatti, è difficile che poi dopo riesci ad essere premiato nel finale. A proposito di fortuna e sfortuna, possiamo dire, con tutto il rispetto che si deve agli avversari, che l'Urna e Nyon questa volta, tra virgolette, è stata fortunata, ma che ovviamente è un impegno europeo. Insomma, ti puoi dire soddisfatto? Beh, sulla carta, sì, sulla barra, dopo c'è il campo e lo Zurigo lo conoscono tutti pochissimo e proprio per quello forse non è una squadra considerata, ma è una squadra che ha fatto molto bene diciamo il girone, battendo il Bayern Leverkusen, che non è l'ultimo arrivato in Germania, perciò rimane sempre una squadra da una squadra che è veloce, dinamica, una squadra che gioca a calcio, quindi una partita che va affrontata sicuramente non con superficialità. E l'ultima mister invece te la faccio diciamo di colore, sul tuo primo Natale a Napoli che atmosfera stai respirando? Com'è questa città durante le feste di Natale? Che emozioni ti dà? Ma il Natale dà sempre emozioni, credo che in qualsiasi posto lo fai, perciò la cosa sorprendente farlo a 20 gradi non mi è mai successo e di solito si faceva con la nebbia e con la nebbia qui ci dobbiamo abituare a farla col sole. Ma sì, si può fare il pranzo in terrazza. Canale 8 Buongiorno mister, lei ha sempre detto anche recentemente che il Napoli è una squadra che deve prendere le partite di faccia perché nella gestione insomma non è proprio gestire la partita non è proprio una delle sue precipue qualità ma è un obiettivo migliorare anche questo aspetto e se sì come si fa? Come si fa naturalmente i lavori sul campo ti aiutano molto questa è una squadra che deve e può perché non tutti possono farlo noi lo possiamo fare perché abbiamo giocatori freschi sani giovani e si può giocare ad alta intensità si deve giocare ad alta intensità perché come ho detto non tutte le squadre hanno questa possibilità perché trovi squadre magari con giocatori diciamo più anziani con qualche acciacco in più e allora sia l'intensità degli allenamenti sia l'intensità delle partite non viene come tu vorresti qui c'è una squadra giovane fresca senza problemi che deve e può giocare ad alta intensità e questa è un'arma che come ho detto abbiamo la fortuna di avere e che deve essere utilizzata Canale 21 Eccoci qua Salve siamo a Natale apprezziamo la sua sincerità quindi le chiedo senza troppe bugie a gennaio arriverà qualcuno sul mercato? No sono molto sincero sono molto schietto a meno che non mi fanno uno scherzetto ma non mi risulta ma a quello che so oggi diciamo che la rosa come ho sempre detto tante volte mi soddisfa è molto competitiva è un arrivo in più creerebbe maggior problema nella gestione e diciamo è una cessione comporterebbe diciamo un decadimento della qualità della rosa come? No a meno che non ci sia il giocatore che si incatena a Castelvoltone e dice voglio andare via tutti i costi non è che diciamo qua non vogliamo trattenere per forza nessuno ma al momento credo che tutti sono più o meno contenti di essere in questa squadra poi sai c'è i casi giolati i giocatori che magari giocano un po' di meno però tutto sommato la gestione è molto semplice il mio Napoli sì mister abbiamo notato che difficilmente punta sulla coppia d'attacco Milik Mertens è una coppia che non le piace o comunque non so no è che c'è come ho detto davanti c'è competizione abbiamo sfruttato il periodo c'è stato un periodo molto buono che Lorenzo ha fatto poi c'è stato il periodo molto buono di Mertens poi c'è stato il periodo molto buono di Milik Milik e Mertens insieme non hanno nessun tipo di controindicazione però c'è stato diciamo meno attuazione di questa coppia perché ho cercato di sfruttare il momento felice di questi giocatori Corriere della Sera su Goulam da 13 mesi non giocava e ne ha giocato le due consecutive ora nella gestione dei tre impegni in una settimana come pensa di gestirlo? no tre partite non le può fare in tutta onestà anche perché sarebbe un rischio inutile che andiamo a correre certamente da questo punto di vista in questa settimana lo dobbiamo gestire però come ho detto la sua condizione migliora sensibilmente giorno per giorno come migliora perché poi alla fine non è per un giocatore che fuori da un anno non è tanto diciamo un problema fisico è la posizione spazio temporale che lui deve avere sul campo che non sempre arriva automaticamente ci vuole un po' di tempo Info Napoli 24 Volevo chiedere se anche domani può essere la partita per Iunes dal primo minuto o se ancora non hai 90 minuti nelle gambe no dal primo minuto no ancora no credo che anche lui ha bisogno di tempo adesso non vogliamo forzare sicuramente dopo la sosta sarà completamente disponibile al 100% Napoli Magazine eccoci il desiderio l'auspicio per il 2019 la promessa da fare ai tifosi intanto di passare un bel Natale il bel Natale significa che la squadra finisce questo giorno di andata bene e poi dopo il fatto di finirlo bene diciamo che ci prepara per speriamo di avere un 2019 coi botti questo ce lo auguriamo tutti che l'impegno per portare per tenere questa squadra ad alti livelli sarà sempre totale il napolista buongiorno senta che effetto le fa la foto di Moggi che è andata in visita alla Juventus sinceramente non mi fa nessun effetto perché Moggi è stata alla Juve tanto tempo ha tanti rapporti personali e quindi è stato diciamo il comandante di questa società per tanto tempo e il fatto che sia andato non mi sembra una cosa così grave mister c'è una domanda di Alan insigne là dietro vieni 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 radio chissà ah non è vero mister da da tradizione chiudiamo con una cosa scherzosa oddio scherzosa è una cosa seria la gastronomia in città so che lunedì sei stato in un ristorante non facciamo pubblicità io ti avevo suggerito questo chef stellato ieri a mangiare la pizza come trovi il livello gastronomico della città e provo a farti litigare per una volta col presidente che ha detto che la pizza romana è meglio meglio di quella napoletana ieri sera sei stato nel cuore di Napoli per una volta ha torto il presidente no credo che nella gastronomia nella cucina i gusti sono gusti perciò non è che si può dire questa cosa è buona o questa cosa non è buona a me piace la pizza morbida magari al presidente gli piace qualcos'altro di diverso la cucina in Italia è al top tutti gli altri sono secondi tedeschi francesi inglesi la pizza ieri era buona? molto meno male ma io non sono andato in pizzeria ieri sera ah no era vecchia la foto da Michele scusami non sto sul pezzo scherzo scherzo c'è l'ultimissima di pianeta Napoli mister torniamo un attimo al campo onestamente dopo le prime tre gare dove sono stati subiti sei gol nelle successive tredici sette clean sheet nonostante hai cambiato i portieri hai cambiato i terzini laterali e anche i centrali significa che questa squadra nella sua intera rosa ha imparato a difendere? io credo che questa squadra sa difendere sapeva difendere prima sa difendere adesso abbiamo cambiato il sistema di difesa ma perché penso che il sistema 4-4-2 è il sistema più efficace in fase difensiva semplicemente quello però che sanno difendere come ho detto la fase difensiva è stata molto ben assimilata negli anni precedenti non è che abbiamo fatto un lavoro specifico su quello mister scusami ha cambiato la tradizione ritorniamo e ne invento una così visto che sotto l'albero Giuntoli e De Laurentiis non ti fanno regali ma sotto l'ombrellone un eventuale doppio colpo Todibu Pavard ti farebbe contento non ti dispiacerebbe? ma io dico solo che dico solo che non possiamo parlare adesso di quello sarebbe è una mancanza di rispetto cross verso questi giocatori perché se dico Pavard mi piacerebbe vorrebbe dire ma allora non sei contento di Zay di Malquitt di Maximovic che ha giocato lì e in realtà sono contentissimo di loro e quindi abbiamo tempo per pensarci a chi eventualmente potrebbe migliorare questa rosa con la premessa che non sarà sicuramente facile grazie a tutti